Allora, io sono Fred De Lepris. Fred De Lepris è un giovane ragazzo, insomma, senza troppa né arte né parte, ha ancora un cattivo rapporto con l'età adulta, non ha grossa dimestichezza con il lavoro, cerca di sfangarla in qualche modo. E niente, quindi si imbatte in questo danno ambulante e si imbatte nel senso fisico del termine e inizia questa avventura fra questo giovane ragazzo un po' sulle nuvole e il coniglio. Non raccontare altro. E non racconto altro. Non raccontare altro. Il mio è il coniglio pasquale, penso di nome di fatto perché si chiama pasquale proprio di nome e anche è il coniglio pasquale, cioè di Pasqua, che vive nel mondo dei conigli di Pasqua, cioè quelli che fanno proprio le uova di Pasqua, a un certo punto come tanti conigli piccoli, io ne conosco parecchi, si rompe le pasquale. Cioè, basta portare le uova, perché devo sempre portare le uova di Pasqua? Cioè, mi sono rotto e vuole inseguire il sogno dell'artista. È un batterista e quindi dove va? A Mariano Comense? No, va a Beverly Hills, va a Los Angeles, va a Hollywood. E lì cerca appunto di entrare in contatto con questo mondo dell'arte, ma prima di entrare in contatto con l'arte entra in contatto con la sua macchina. Detto questo, lui mi tira sotto e a quel punto, lui essendo un coniglio molto, ma molto, ma molto intelligente, dice facciamo così, faccio finta di star male così a lui almeno mi tiene a casa sua, che poi non è casa sua, e da lì inizia tutto il film. E da lì in poi tutte e due, insomma, cresceranno. Grazie a tutti.